Cosa? Hanno fatto un colpo di stato! Corri! Lui dov'è ora? In un posto nel sud, completamente isolato dal resto del mondo. Come si chiama? Colonia Dignità. È una sorta di setta. A capo c'è un certo Paul Schaeffer. E se andassi lì? Mi unissi a loro? Io non lo farei. Vieni qui. Potresti non uscirne più. Avrai un fidanzato, qualcuno che ti vuole bene? No. Ti ho accolto come una figlia. E ora ti mostrerò il tuo vero volto. Avanti, andate! Pensi di aver fatto uno sbaglio. che non saresti dovuto venire qui. No! Te ne pentirai. Te ne pentirai amarmente.